Questa è una cannonata e questa è un'altra cannonata, ma la vera formidabile cannonata è in arrivo ora. Ma che cannonata? Questo è un bombardamento bello e buono e se permettete vi presentiamo le bombe così, in ordine sparse. Cielo Alonso, Caprice Chantal, Johnny Dorelli, Link Show, Vicevalori, Corrado Pani, Liana Ortei, Eddie Vessel, Raimondo Pianello, Fred Buscaglione e Bruce Cabot. Vi comunichiamo inoltre che il film si chiama Guardatele ma non toccatele, dopodiché lasciamo la parola a Ugo Sognanti. Guardatele ma non toccatele, un avvertimento. Ho anch'io un avvertimento. Questo è un film, speriamo, comico, perciò fatti e personaggi sono assolutamente irreali. E certo che se nei campi d'aviazione italiani accadesse ciò che accade in questa avventura musicale, vi dirò che forse invece di fare l'attore avrei fatto l'avviere anch'io. O forse no. Ah, nel film Vianello è un mio superiore esclusivamente perché è più alto di me. Io non posso baciarti, Valentino, è il dovere. Sì, il dovere, il dovere un pochino anche mia moglie. Ma insomma, baciamoci lo stesso, via. Previ che bacio che vi hai dato ancora subito. Non interporre tempo in mezzo, baciami ancora, ti prego. Sono qua tutto per te. Ancora così mi piace, che mi schiaffeggi, così sa di che ti voglio. Sempre di più ostrega. Ma no, non ci sa, dai! Vergognato, schifoso, fussone, maiale, porco, criminale, ascalzone. Oh, scusi, ci devesse un'interferenza. Io cercavo il maresciallo Lardotte. Oh, scusi, ci devesse un'interferenza. Io cercavo il maresciallo Lardotte. Oh, viva signore! Porca miseria! Guardatele, ma non toccatele. Una commedia insolita dove le imprese belliche diventano sbellicanti. Dove campagne eroiche finiscono in champagne. Dove non cadono bombe, ma soprattutto bimbe. Ma basta, sai, con tutte queste balle mi hai finsegato, eh! Bella, proprio bella. Capitano mio, che bistecona ero! Come hai detto, scusa! Lo dicevo, gamba lunga, sfilata, bella, proprio bella, ecco! E la do io la bistecona! Ehi tu, messa cartuccia, cosa fai ancora qua dentro? Via, libera uscita, muoversi, muoversi! Una volta in aviazione certi tipi non li prendevano. Un'altra volta in aviazione certi tipi non li prende. Ehi, guardo! Guarda se quando me tocas Ai, io non se lo que me pasa, no Pero se sabe que siempre me gusta Mucca a picking paljon El cha-cha-cha Vai! Eh! Non mi correggo, non mi tentate Altre persone si son provate Scusate tanto Se ho il quischi facile Grazie